Vabbè, allora tu capri sti cazzo dei pacchi Sto eccitato Vedremo si top 100, va, 67esimo al mondo Ma faccio il video? Oh, che è? Eh, sto ricca Ma come Europrime? Ma che vuol dire ho effettuato l'accesso solo tre volte? Porco Dio ho fatto top 100 tre volte Come è tono in 45k? E mo apro subito, è così, questo... Manco di rispolarci Eh, sta slim Vabbè, devi scaricare Da una vita che sto, da tutto l'anno che sto scaricando sto gioco No, ma di scuola, va Sto mezzo eccitato Vai, fu Champions Vai, vai, vai Guarda quanto sono belli Che te fa vedere 60esimo al mondo, vai Becchia 125k, 300k E pacchetto SDTS Ultimate Vito Ma se ci credi di come sono arrivati la pacchennone È ricco Buoni 100k Vabbè Primo 100k, dai Con lo mezzo, mi piace Che t'aspetti? Quanti soldi vuoi fare? Oh, buono Oh, questo Che vuole fare? Ah, cos'è? Oronardo 98 Oronardo 98 Non ci credo Ne manco male, però che cazzo vale 10k Guarda che pacchetto Coscia di pollo, il migliore Ma Musa Mamma che disgrazia Che disgrazia sti pacchi Ma che sarà 10k 20 in suo piano 19 in suo piano Amo capito come va Che si fa tanto come al solito Mi rendo Cerco d'arsa sempre Suspici in più E tanto ormai mi è rimasto Da fammi solo Que ronardo e quel goresca Da provare Que ronardo e quel goresca Vabbè, avremo se questo Un altro oro maxi Oddio, so tre Uno buono modera Altro, eh Un altro speciale Poi qua, luce Non capisci mai Francia TD Pazzo, è schifo Eh, però la cartina non è male Per Pavard di mondiali Infatti, non male, però Magari dietro c'è un altro Ma chi è? E' l'indungong Vabbè, questo fa schifo Questo 20k Vabbè, l'indungong Penso si possa anche O' figa la maietta Bello un culo Mamma, schiatta, va Sta bello Pulito, però Almeno l'indungong Ma ha dato Guarda, ito 10k Guarda che 1900k Impulite Eh, cerchiamo di dire 2k Oh, non vedo l'ora Eh Oh No, pensavo fosse Naigon An if An if Eh, capirai Giapponese Chi cazzo è? Mamma Kobayashi E che cazzo ci fai? Non schiavarti Mamma mia Che pacchi De merda Au 11k Au, 11k Chissà, butta 11 Senti Vaffanculo Vaffanculo Va, compayashi Vaffanculo Ma si Belli si I tre pacchi Da 100k Però Mamma mia Beh, che si Sarebbero 60 euro De pacchi Alla fine Ah, la raggiunta Alist Alla, fa così Gli sto trasferimenti Vai Eh, scarta Ma che questo lo metto Ah, non posso Al pressione Quanto stanno Per curiosità Che tanto Quello che scherzo Sera Ficso La mia Da bene Au, è qua Verrà che qua Sto avvelenato E quello è buono Abba, wish Era un po' A culo S DTS Ultimate Sei tozzo Nuno stesso Parco Nanno P.P.A.R. Top 100 E sto pacco X Guarda che dici Sto là No Ma ritrollato Era un La 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 Le sleeping the moment Eh, cazzo Era buono Invece Cavani È però una bella Cazza Eh, sì Ho capito Ma che cazzo Cosa era Quarantamila E dietro Chi c'è Sta Uno Buono Ma Cian Ancora Porco Dio 4 Cioè 4 Deve serie Inferi Porco Dio Fate Proprio Schifo Porco Dio Isco 98 Sai Quanto Vale Ah 93 Mira Vabbè Ma c'è bella carta Cavani Eh, ma il 97 è pulito Cavani 135 Vabbè Mamma Cioè In totale avrei fatto tipo 400k Con top 100 Sì Bella merda Ma poi Oh De nuovo Si scemi Questo Questo Vola Questo Vola Questo Vola E questo Deve morire Di qualunque malattia Possibilmente Conosciuta Perché è la terza Volta di fila Che lo trovo Ne reward Almeno questi Sono 200k Eh, ho fatto Vendili Che ti passo Un milione Eh, bravo Va bene Ora te li metto in vendita Eh, ho fatto Eh, ho fatto Eh, ho fatto Eh, ho fatto